Non basta mettere le donne nelle liste, ma sceglierle per competenze e renderle davvero elegibili. Lo ha detto Beatrice Covassi, già capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, nel corso della tavola rotonda di Redonne sulle prossime elezioni europee, moderata dalla giornalista Sandra Zampa, che si è tenuta ieri nella sede dell'Agenzia di Stampa Dire, con Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli Leali, del Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne, e Meride Martino della Direzione Nazionale della Gioventù Federalista. Deve essere chiaro alle donne che andranno a votare, esordito Zampa, che lo spazio dei diritti di genere è terreno cruciale per i due modelli di Europa che esistono e che uno dei due, quello sovranista, populista, è di fatto quello patriarcale. Lo spunto alla discussione arriva anche dalla recente direttiva sul congedo parentale, retribuito e non trasferibile, che ha incassato 490 voti a favore e che gli stati membri dovranno recepire entro tre anni. Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli Leali ha ricordato quanto il lavoro per arrivare a questa direttiva non sia stato semplice. Ci sono stati blocchi dagli industriali, soprattutto dai tedeschi. Per questo, con la lobby europea delle donne, la strada prescelta è quella della sinergia tra la società civile e le istituzioni. Così, dopo il leader di Podemos in Spagna, magari, ha ironizzato Sandra Zampa, sarà Saldini a rimanere a casa con il congedo di paternità. Brexit insegna che si può tornare indietro e i giovani italiani, secondo Meri De Martino della gioventù federalista, ne sono consapevoli. Nell'Europa siamo nati, ma se non andiamo avanti, ha ribadito De Martino, il rischio di tornare indietro esiste.